Ciao ragazzi, siamo a Torino, siamo in casa di un giocatore del Torino, chi sarà? Chi sarà? Lo scopriamo? Secondo voi chi sarà? Scrivete nei commenti, chi sarà? Mi hanno sardena, mi hanno sardena, no il giocatore, chi è? Che sto casinando! Ooooooh! Che sto casinando! E di Pestri, eccolo qua! Venga, venga, venga! Allora, dobbiamo fare questa sfida, a Pest, a Spinar, a giocare... Chi hai scelto dei tuoi compagni per aiutarli? Sono pronto, ho scelto uno veramente forte ragazzi, si chiama Daniele, si chiama Daniele... Ai papi! No, 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 è bici, è un super centrocampista, ha un fisico statuario... E' Bob! Ecco qui! E' Danielone Baselli! Eccolo! Grazie! Applausi! Idolo, idolo di molti, molti che fanno il fantacalcio, no? Esatto! Oh, voi che rapportamente col fantacalcio? Odiamo! Da calciatore, no? Odio, odio, odio! Mi piace sempre farli vincere sempre, però! E' dura! Una marea di domande, segna, astri... Allora, sono peggio gli allenatori o i fantallenatori? Secondo me i peggio i fantallenatori! Siamo solo gli... Sono prefigenti! Sono prefigenti! La domanda è una sola, chi ha segnato più uguali in Serie A tra Baselli e Nel Silvestri? E anche qua mi dispiace ma... Per uno! Uno in più! Uno in più! Quanto siete? Uno in più! Tu che sei? Sono quattordici! Mentre a Base, come siete messi a...? Io me la cavo in quasi tutti i giochi di calcio! Io per lui! Non c'è male, però... Allora... Io gli chiede siamo insieme! Io do tutto! Noi siamo come te, nel senso... Io do tutto! Io ero molto bravo, un tempo fa poi... Potremmo essere un po' l'abitudine, però... Diamo tutto! Quindi non c'è altro! Io grittoso! Anche tu! Meno qualità me l'ho... Meno qualità! Sono più fighetti! Allora... Allora... Se non finisci almeno se è vero... Siamo... Malissimo! 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 Andiamo! 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 Allora ragazzi! Prima di iniziare! Prima di iniziare! Voi le vostre statistiche le sapete? No! Le immaginate? Potete immaginarle? Allora... Da che iniziamo? C'è una scommessa? Dai! Chi ci fa più vicino? Dai dai dai! Velocità! Quanto hai di velocità? 0-100 eh? 0-100! Io direi... 85! Ok! Sì! Sì! Rimini! Vabbè! 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 Qual è la soluzione? Sì! 78! Oh! Vabbè! Dribbling! Dribbling! Dai! 50! Vabbè! Vabbè la sensualità! Secondo te quanto anni? No! Mi do un po' di più! Tra il 62 e il 65! 80! No! Me ne vado! Ciao! Hai scoperto davvero il dribbling! No! 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 Allora! Ci sono dei messaggi per voi! Prima di iniziare! Prima di iniziare! Ok! Allora la partita ovviamente è Chelsea-Torino! Ok! Torino-Celsi! Torino-Celsi! Ok! Primo messaggio! Conte carica! De Silvestri! Ok! Allora! Questo è il video messaggio di Antonio Conte! Che è il nostro CTI oggi! Il nostro mister oggi! Sentiamo! Anche se è Pro Evolution voglio vincere! Assolutamente! E so che lì c'è Lorenzo che ha giocato con Zappacosta che ora sta con noi accessi! 30 milioni! L'abbiamo pagato a Zappacosta! 30 milioni per Zappacosta? Un po' troppi eh! Però vabbè dai! Detto questo buona partita a tutti e se non vincete vi spacco le caviglie! Grazie! Grazie! Saricava così così! Uguali! Soprattutto il finale! Il finale sta con le camminhe a cima! Come c'è? Il messaggio del mister! Ovviamente! Sinisa! Miai! Allora oggi giochiamo contro Chelsea di Conte! Baselli mi raccomando vedi di vincere! Se no settimana prossima a campo lo vedi con binocolo e va in tribuna! Ok! Mi raccomando! Mi raccomando! Mi raccomando per far bene certo! Che è peggio? Mi hai lo vinci o Conte? Come li hai provati! Dipende del peggio o cosa in tempo! È bello! Eh sì! Si esegui qualche un po' eh! Sono sempre superiore! Grazie! Grazie! Ragazzi! Grazie! Pronti! Poi potremmo giochiti a Conte e poi gioco io? Sì! Dai! Forza! Un saluto da Fabio Garesse e Luca Marcheggiani! Ciao Fabio! È bello oggi! Guarda quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare! Guarda che camminata! Guarda che camminata! Guarda che camminata! Concentrato! 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 Maio! Guarda che camminata! Maio! 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 Però non è arrivato! Maio! Le lo sto per fare! Le lo sto per fare! Maio! Così zappa! Così zappa il contropiede Letale del Cessi! Lo recupero io! Lo recupero io! Così! Così, Alvaro! Così, Alvaro! Così, Alvaro! Metti Alvaro! Metti Alvaro! Metti Alvaro! Metti Alvaro! Aspetta qua! Vai! Ancora John! John Dado! Come stai? Come stai? Che posto! La ragazzione che ha fatto però, che cuore! Guarda la smarca di dolore! Guarda la smarca di dolore! La smarca di dolore! Occhio! 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 Così! Così vi voglio di te! Sta imperioso! Te la metto lì eh! Ho un po' così! Tutte gole! Corte A! Che cazzo! Bravo! Così il contropiede Letale! Guarda lì! 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 Ti ballava in mezzo! Ma no! Ma come io date! Ma no! Guarda lì! Guarda lì! Guarda lì! Si è dribbla di solo! Si è autodribblato! Allora cambio, cioè Alessandro a posto mio mi raccomando, fai una finita bene. Io sono rosso, io sono rosso. Dai eh che il primo tempo è andato bene. Dagli, dagli! Ecco! Ma poi su di me! Vabbè, no. Chi è che è entrato? Chi era che vince tu? No, no! Ma dai, dai, dai! Non mi hai fatto male! Giallo! Autofallo! Madonna mia che è entrata che mi hai fatto! Autofallo per il fortuna, questa è bella eh! Buona volta, volta! Buona volta! Ragazzi stavo giocando e pensavo di essere un giallo. E con un'occasione di contro... Qui devi dire... Oh! Mamma, mamma, mamma! Ma fai lo su, signori miei! Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire, base! Basta, siamo in difficoltà in questo secondo tempo. Cattivo, cattivo! Nooo! Per il mezzo! Per il mezzo! Esce! Nooo! Non puoi qua! Aiuto! Bello! 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 Nooo! Ma che gane! Cavola, è un giocassone! Autocassone! Autocassone! Va bene! Va bene! Vai bene! Vai bene! Vai bene! Vai bene! Vai bene! Hai fatto male! Hai fatto il tasso! Si perché io stavo già esultando, per lui invece è una passata! Ma non è stato un grande ignorante! Nooo! 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 Ti giuro! Ti giuro! Ti giuro! Si si si! Grandi con il dano! Voglio autogol! È che si è aggiunto rec! Oh! Spala! 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 Oh! E finisce quindi! Sì! Autogol! Abbiamo segnato noi! Gornostro! Gornostro! Grazie! Grazie! Ragazzi è andato come è andata! Grazie! Qualche remoro sull'arbitro insomma! Così comunque! Comunque! Mettete like al video! Mi raccomando! Nei commenti scrivete quali altri giocatori dobbiamo sfidare per questa sfida! Quali altri giocatori vorreste che noi sfidià? Quali? 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 Quindi mi raccomando ragazzi! Iscrivetevi al canale degli Autogol! Ciao ragazzi! Perfetto! Ora via! Fuori dalle quadrate tutti! Grazie! Grazie! Alla prossima! Alla prossima! Anche lui! Anche lui! Anche lui! Anche lui!